Al 34esimo la Lazio passa meritatamente in vantaggio, Spinozzi cede la palla a Giordano e trova lo spazio per ferrare questa botta inesorabile. Nella ripresa la Lazio si siede, come ho detto, e al decimo la Fiorentina ottiene il pareggio con Antonioni dopo una mischia. Ecco il tiro del capitano Viola. Al 36esimo, infine, quando le squadre davano l'impressione di accontentarsi del pareggio, Passarella ha regalato la vittoria alla Fiorentina, che vola così sempre più in alto. Grazie